Pensare alle piante, alla presenza del verde, tra l'altro Amatera ha avuto da qualche giorno sia Amatera ma anche altre città hanno avuto questo riconoscimento della presenza dell'entità del verde, fa pensare anche ad altro, in particolare al rilancio delle essenze autoctone, quelle locali in modo da poter avere di nuovo il gusto e la voglia di vedere, toccare delicatamente, annusare le piante di una volta che potrebbero tornare ad aglietare i nostri percorsi cittadini. A Amatera in particolare ci sta lavorando Angelo Stagno che è architetto, che si occupa delle tematiche del verde e dell'ambiente e anche degli arredi urbani, lo fa in Austria per la verità ma lo fa anche qui in Basilicata. Benvenuto Architetto Stagno, insomma è già da qualche tempo, diciamo che forse più di un annetto, che ogni tanto ne parliamo. Sono proposte interessantissime, alcune hanno previsto la salvaguardia di un ulivo che è in un grande vaso all'interno della struttura del Palazzo dell'Annunziata che più o meno è stato salvato anche perché l'ulivo resiste. Ma ci sono anche altre proposte, in particolare la possibilità di pensare all'arancio amaro, dove potrebbe essere messo? È una proposta che abbiamo presentato all'amministrazione comunale di Amatera per riqualificare delle aree e degli assi principali, assi portanti, viari e pedonabili della città. Mi riferisco ad un'area campione che si era scelta per l'inserimento di queste piante classiche della vegetazione mediterranea e anche tipiche delle nostre colture, appunto l'arancio amaro, nel segmento basso di Via Roma, quindi quello che va da Via Lucana al Palazzo della Prefettura. L'inserimento di queste piante, 50 in tutto, avrebbe costituito una novità appunto per Matera, sono delle piante sempre verdi, con fruttificazione quasi costante, soprattutto la presenza delle zagare nel periodo primaverile, avrebbe dato un tono gratificante anche dal punto di vista olfattivo. Olfattivo dovrebbe essere molto bello, comunque è una cosa che è ancora in fieri, non è stato ancora realizzato granché quasi niente, tranne l'intervento per l'ulivo di Mediateca, ma i progetti ci sono e ci sono anche, lei mi diceva, la voglia e il sostegno da parte di alcune organizzazioni importanti. Sì, diciamo che questa proposta è stata in primo luogo sostenuta da tutti i commercianti di Via Lucana, di Via Roma, di Via Roma Alta, quindi da Via Lucana a Piazza Matteotti, di Via Domminzoni e sono raccolti circa 122 consensi tra commercianti, liberi professionisti, cittadini che di buon grado hanno accettato questa proposta. Lo slogan è quello di restituire bellezza alla città, un elemento che è stato tolto alla città nel corso degli ultimi decenni, nel corso di diverse amministrazioni, ma che siamo in grado e penso anche pronti a restituire a questo bellissimo luogo che è Matera. Poi in particolare un altro polo strategico, anche perché proprio di partenza apre tutto il percorso della dorsale settecentesca nella città di Matera, riguarda la villa comunale. Che intenzioni ci sono in proposito? La villa comunale è molto stimolante in quanto al luogo e abbiamo pensato già due anni fa, nel 2015, una prima proposta intitolando i giardini di marzo in onore alla poesia popolare italiana del XX secolo, ad un orto giardino contadino con l'inserimento di piante autoctone, le cosiddette piante dei padri. Facciamo riferimento a questa bellissima pubblicazione di Giuseppe Gambette, Ciccio lo Schiavo, relativa proprio a queste essenze classiche. Addirittura pensavamo alla pedonalizzazione di tutta l'area della villa comunale, che perderebbe appunto il traffico di via Mendola e di via Stigliani e si ridurrebbe a una meravigliosa isola verde ad un unico livello, così come sta accadendo di recente anche nel centro della città, con Corso Umberto, e quindi si darebbe il via ad una proposta di pedonalizzazione che parte dalla villa comunale e arriverebbe fino all'Anfranchio, o addirittura all'apice del Palazzo della Provincia, senza che ci sia più una macchina per lo mezzo. In più c'è anche la possibilità, da quello che avete progettato, identificato, di avere un'app particolare per poter conoscere le essenze piantate. Sì, con un QR code, con questo codice speciale impressionato con lo smartphone, sarebbe possibile una schermata... Un quadratino tipo labirinto, noi profani lo chiamiamo così. Una schermata sullo smartphone delle caratteristiche e le peculiarità delle piante, quindi le loro denominazioni botaniche, ma anche dialettali, perché il linguaggio locale va recuperato, così come la tradizione, ma ulteriormente anche le ricette che riconducono alla gastronomia classica e tradizionale della nostra città. Dall'altro capo, a chiudere la dorsale settecentesca, c'è Palazzo Lanfranchi, che ha un chiostro interessantissimo, dove anche lì avete elaborato una proposta presentata alla direttrice del polo museale, mi pare. Sì, ecco, sia la Villa Comunale che il Palazzo Lanfranchi costituiscono gli apici di questa bellissima passeggiata attraverso la città di Materia, il centro storico, che si presenta così come ingresso alla Villa Comunale, se partiamo appunto da lì, con questa vetrina delle piante autotone e conduce fino al chiostro addirittura di Palazzo Lanfranchi, che potrà essere reinterpretato come giardino delle erbe medicinali, delle erbe medicinali. Il chiostro era un po' la farmacia dei sacerdoti che abitavano queste strutture e non solo la riproposizione della meridiana che è scomparsa, è stata divelta all'interno del chiostro, ma addirittura dell'orto delle piante officinali che vanno ad arricchire questa preziosità della struttura museale materana. Ecco, poi c'è, per chiudere, lei ha accennato alla meridiana, ma anche l'orologio biologico più antico per eccellenza, un albero che fiorisce quando arriva la primavera, due mandorli dove potrebbero essere messi, piantati, piantumati. Sì, questa è una proposta che abbiamo fatto sempre in parallelo con le essenze in Villa Comunale, così come nel segmento di Via Roma, perché sono molto vicini tra di loro, e si tratterebbe appunto di due alberi di mandorlo al posto delle palme dismesse ormai perché, insomma, punte dal punteruolo rosso, così come è accaduto spesso anche altrove, e che segnano effettivamente la vicendarsi delle stagioni. Quindi è l'orologio più antico che conosciamo e che si contrappone a quello in alto sull'annunziata che ovviamente rintocca al ritmo delle borse internazionali e delle infrastrutture ferroviarie dell'Ottocento. Da quel momento in poi il tempo sembra sia cambiato, ma non per noi a Matera, che siamo legati al tempo della vita, al tempo dei mandorli. E poi i due mandorli dialogherebbero, tra virgolette, come dite voi quando parlate di edifici, voi architetti, dialogherebbero con l'Ulivo a fianco al Monumento dei Caduti. Assolutamente, una riproposizione del paesaggio in piazza a Matera. E anche le meridiane avrebbero una loro dignitosa allocazione, alcune riscoperte, alcune impiantate? Sì, il programma in collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e con la collaborazione scientifica e la supervisione del direttore Pippo Bianco, che si è mostrato molto interessato e partecipe a questa proposta, vedrebbe sia la riscoperta che la riattivazione e il restauro delle antiche meridiane già presenti sia nel centro storico che nei rioni sassi, diversamente dislocate, che la costruzione di nuovi orologi solari, con la partecipazione dei nomi più significativi della gnomonica, così si chiama questa scienza, che studia le meridiane orologi solari provenienti da tutta Italia. Queste persone appunto si tratta dell'ingegner Alberi Aubert di Trieste, che è stato autore del restauro e della riscoperta della meridiana della Borsa di Trieste, che apriva e chiudeva le contrattazioni dell'Iberio Austro-Ungarico, Giovanni Paltrinieri, conservatore della meridiana di Gian Domenico Cassini in San Petronio a Bologna, Pino Zuccalà, noto matematico barise e costruttore degli orologi solari più originali che si conoscano e scopritore di molti misteri di questa scienza antica dell'astronomia e in più il professor Saggese, che ha realizzato un testo molto bello sulla catalogazione e censimento delle meridiane in Basilicata. Ringraziamo l'architetto Stagno per averci raccontato di queste proposte che sono praticamente messe a cuocere, come si suol dire, sulla griglia della programmazione, nella speranza di respirare aria differente, magari profumata dalle essenze di arancio amaro o vedere sbocciare e fiorire i vandoli in piazza Vittorio Veneto a Matera. Noi lo ringraziamo e ci auguriamo che la sensibilità comune di privati e pubblico possa dare spazio a tutto ciò, anche per vedere l'orario, magari con l'ognomone della meridiana che indica l'ombra, l'ora più o meno, approssimativa l'ora e non i minuti. Bene, ringraziamo ancora una volta per quel che riguarda noi, come al solito. Alla prossima! Grazie a voi! Grazie a voi!